Che cosa succede quando cerchiamo di mettere a fuoco più cose contemporaneamente con la nostra macchina fotografica? Come mai non riusciamo ad avere controllo sulla messa a fuoco della nostra scena? Che cos'è che stiamo sbagliando? Nel corso del video di oggi andrò a farvi vedere come mai la vostra macchina fotografica non riesce a mettere a fuoco correttamente quando abbiamo a che fare con soggetti multipli e vi spiegherò anche che cos'è che state sbagliando e vi farò vedere qual è la soluzione. Ciao a tutti amici bentornati sul mio canale, io sono Cesare, mi occupo di fotografia per cui si dà il caso che ormai io abbia imparato come si fa a mettere a fuoco anche in contesti un pochettino più complicati come per esempio quando dobbiamo mettere a fuoco più cose contemporaneamente, possono essere più persone, più oggetti, animali, cose, veicoli, qualsiasi cosa. Nel corso del video vi farò vedere con esempi pratici sia che cosa state sbagliando se le vostre foto non vengono a fuoco come volete voi, sia come fare per porvi rimedio. Per questo motivo vi consiglio di seguire questo contenuto fino alla fine. Vi invito anche a iscrivervi al canale cliccando il bottone qui sotto perché ci sono, credetemi, tante cose che ho imparato a fare nel corso di questi anni ed è possibile che qualcuna di queste possa servire anche a voi. Andiamo subito a incominciare, vi presento i miei assistenti che sono Eren Yeager e Mika Zuckerman. Oggi ci daranno una mano nel difficile compito di cercare di comprendere un pochettino meglio la messa a fuoco del nostro dispositivo fotografico. Cominciamo col dire che nel momento in cui fotografiamo due soggetti che sono perfettamente allineati, ovvero hanno la stessa distanza da noi, questi due soggetti saranno entrambi perfettamente a fuoco come nell'esempio che vi faccio vedere adesso. Questo è un caso un po' particolare perché raramente ci capita di fotografare due cose che sono esattamente equidistanti dal frontale del nostro obiettivo e dal nostro sensore. Come potete vedere per esempio le lampade sul mio sfondo non sono alla stessa distanza della mia faccia e quindi non sono a fuoco. Vi dirò di più, la mia mano non è alla stessa distanza della mia faccia e già la vedete parzialmente sfocata. Se io vado a mettere la mia mano qui, una fotocamera dovrebbe automaticamente mettere a fuoco sulla mano e vedete che la mia faccia dietro va fuori fuoco. È sufficiente uno scarto di poca distanza più avanti o più indietro perché il punto di messa a fuoco diventi insufficiente a mettere a fuoco due soggetti non allineati. Nella maggior parte dei casi nella nostra vita ci troveremo ad avere a che fare con soggetti non allineati e quindi potremo fare due cose. Potremmo spostarci in maniera tale da riallinearci con questi due soggetti. In buona sostanza se io ho due soggetti che sono collocati in queste posizioni e uno dei due è più avanti, se io mi sposto arriverà un momento in cui i due soggetti si riallineano. Però potrebbero non essere più a favore di camera a questo punto, quindi questo è un problema. Per questo motivo e per via del fatto comunque che noi non possiamo trottare intorno ai nostri soggetti, dobbiamo imparare a gestire la nostra messa a fuoco e la nostra profondità di campo soprattutto, andiamo oggi a cercare di capire qual è la soluzione migliore, la più efficiente e anche quella fotograficamente corretta. Comincio però con lo svelarvi che cos'è che vi sta traendo in inganno. La maggior parte delle nostre fotocamere ha un sistema di messa a fuoco per punti o comunque con un reticolo. Questo significa che all'interno del nostro fotogramma voi vedete o dei punti di messa a fuoco oppure una griglia e poi la fotocamera sceglie i punti di messa a fuoco che vuole lei. Ora che cosa succede nel momento in cui noi crediamo di aver detto alla macchina di andare a beccare più soggetti? Che in realtà la macchina sta continuamente beccando uno. Nella fattispecie vi faccio un esempio semplicissimo così capite. Facciamo finta di avere il punto di messa a fuoco centrale. Se utilizziamo il punto di messa a fuoco centrale è evidente quello va a mettere a fuoco su di me ed è pacifico sta mettendo a fuoco solo su di me. Nel momento in cui noi mettiamo la messa a fuoco a griglia o comunque in automatico e quindi la fotocamera fa da sola è molto probabile che la fotocamera identifichi più punti su cui andare a mettere a fuoco. Ovvero fa magari una media ponderata cerca di capire che tipo di scena ha di fronte e va a mettere a fuoco in maniera automatica ma cercando di beccare quello che deve beccare. Ora molte macchine beccano l'occhio automaticamente ma il punto è che nel momento in cui noi andiamo a mettere a fuoco la distanza di messa a fuoco può essere una e una soltanto. Questo significa che non importa quanti punti di messa a fuoco abbiamo impostato. Se abbiamo impostato l'intero reticolo con 500 e passa punti di messa a fuoco nel momento in cui la fotocamera riconosce una scena e becca al mio occhio sempre uno e uno soltanto sarà il punto che verrà effettivamente messo a fuoco. La macchina potrà cercare di capire se sta prendendo l'occhio destro o l'occhio sinistro e potrà andare a beccare il più vicino. Potrà magari dare prevalenza se ci sono due persone prevalenza alla persona più vicina rispetto alla persona più lontana ma comunque la distanza di messa a fuoco è sempre una e una soltanto. Le nostre lenti non possono basculare in modo diverso a seconda delle persone che ci sono sul fotogramma. Non posso mettere a fuoco in un modo da una parte e in un altro modo dall'altra. Il punto di messa a fuoco sarà sempre uno e uno soltanto e la dimostrazione è questa. Se io metto qui le mie mani vedete che rimane a fuoco la mia faccia e le mani sono sfocate. Oppure più semplice ancora al contrario vedete che se il punto di messa a fuoco è qui il mio sfondo rimane sfocato. Insomma non è facile mettere tutto a fuoco lo è ancora di più se ci affidiamo ai punti di messa a fuoco per compiere questa operazione. E badate bene nelle fotografie che vi faccio vedere adesso io ho volontariamente sfasato Eren Yeager e Mika Zuckerman. L'ho fatto perché in questo modo uno dei due va fuori fuoco. Attenzione bene in questa immagine che vi sto facendo vedere io ho usato la messa a fuoco automatica. Quindi non ho usato il punto di messa a fuoco centrale. Ho detto alla macchina metti a fuoco tu dove credi che sia meglio. Come potete vedere la macchina ha messo a fuoco quello che stava più vicino sfocando quello che stava più lontano. È un meccanismo automatico e perfettamente logico perché è più bello mettere a fuoco ciò che sta più vicino. Quindi la macchina in qualche modo sta facendo la cosa giusta volendo. Però quello che vogliamo noi in questo caso è averli a fuoco entrambi. Ed è arrivato il momento come promesso di svelarvi l'arcano. Come mai non ci riusciamo? Perché non sono i punti di messa a fuoco lo strumento per fare questa cosa. Per riuscire a mettere a fuoco due soggetti sfasati quello su cui dobbiamo agire è il diaframma. L'apertura del nostro obiettivo. Per chi non lo sapesse e perdonatemi quelli invece che lo sanno già. L'apertura è regolata dal diaframma che è fondamentalmente il diametro del nostro obiettivo che va a stringersi o aprirsi a seconda del numero che noi andiamo a impostare. Ora nel momento in cui noi vogliamo una profondità di campo ovvero una porzione a fuoco dell'immagine la profondità di campo che state vedendo voi in questo momento prende solamente la mia faccia perché già le mie mani sono un po' fuori fuoco e lo sfondo è un po' fuori fuoco. Quindi la profondità di campo qui è molto sottile. Se io volessi espandere questa profondità di campo e quindi mettere a fuoco anche quello che sta un po' più avanti e anche quello che sta un po' più indietro dovrei chiudere il diaframma perché con un diaframma più chiuso la profondità di campo aumenta. Quindi facendo entrare paradossalmente meno luce riesco ad avere una porzione maggiore del mio fotogramma a fuoco. È quello che siamo andati a fare in questa terza, ho perso il conto, in questa nuova immagine che vi faccio vedere. In questo caso come potete vedere stavamo scattando inizialmente a f1.4, qui siamo andati a chiudere a f9, f11, non mi ricordo neanche più. Abbiamo chiuso di parecchio il diaframma e vedete che così facendo riusciamo ad avere i nostri due soggetti perfettamente a fuoco anche se sono sfasati. Dunque è questo il mistero. Nel momento in cui noi vogliamo mettere a fuoco più persone, più oggetti, più cani, veicoli, qualsiasi cosa, quello che dobbiamo fare non è impostare i punti di messa a fuoco su automatico perché quello non fa altro che dire alla nostra fotocamera che non abbiamo le idee ben chiare che deve decidere lei dove mettere a fuoco. Ma non le stiamo dicendo niente su quanto profonda deve essere la porzione di foto che vogliamo a fuoco. Ecco che agendo sul diaframma invece andiamo a dirgli esattamente questo. Andiamo a dirgli che la nostra profondità di campo, quindi l'area a fuoco, deve estendersi dal punto in cui noi andiamo a mettere a fuoco, in questo caso l'occhio, fino a un po' più indietro. Di quanto dobbiamo chiudere il diaframma questo dipende da una miriade di fattori, quindi io non vi posso dire un numero magico. Vi posso dire che sicuramente se stiamo tra f5.6 e f9 ci sono ottime possibilità che riusciamo a prendere a fuoco tutto quanto, qualsiasi ottica stiamo usando. Va anche detto che questo dipende anche dalla distanza da cui ci troviamo noi con i nostri soggetti e dalla distanza dei soggetti uno con l'altro. Se i nostri due soggetti per quanto sfasati sono abbastanza vicini sarà più facile metterli a fuoco entrambi e dovremo chiudere meno il diaframma. Se viceversa i nostri soggetti sono molto lontani, come per esempio questa mia mano e lo sfondo dietro sono parecchio lontani, è anche possibile che con l'ottica che abbiamo in nostro possesso non sia otticamente fattibile mettere a fuoco due cose così lontane tra loro e quindi dovremo andare ad avvicinare il primo soggetto al secondo per cercare di metterli a fuoco entrambi nello stesso fotogramma. È una cosa che viene un po' anche con la pratica, comunque le prime volte si sbaglia, si fanno un po' di esperimenti. Una cosa che potete fare è l'esperimento con il centimetro. Voi prendete il centimetro, lo tirate, andate a mettere a fuoco in un punto, guardate dal punto in cui avete messo fuoco per quanto si estende la vostra profondità di campo e a quel punto sapete che a una data distanza, quindi magari mettete a fuoco a un metro e sapete che mettendo a fuoco a un metro avete una profondità di campo di 15 centimetri. Non vi basta, chiudete il diaframma, rimettete a fuoco nello stesso punto e vedrete che la profondità di campo sarà di 30 centimetri, 45 centimetri. A quel punto lo sapete, è un esperimento empirico che si può fare perché se state fotografando, faccio per dire, delle persone e quindi supponete che fotograferete da un metro o due metri di distanza e le persone saranno a 30 centimetri una dall'altra, quindi potenzialmente con 30 centimetri di sfaso di profondità, andate a calcolarvi la profondità di campo da quella distanza di messa a fuoco con quel tale diaframma e vi calcolate il diaframma che vi serve per mettere a fuoco le persone nel contesto in cui sarete. È una cosa molto empirica che dopo un po' vi verrà automatica, anche perché dopo un po' direte so benissimo che devo mettere F8 per fare questa scena, metto F8 e sono tranquillo. C'è un però. Nel momento in cui voi andate a chiudere il diaframma entra meno luce e questo significa che bisogna agire sugli altri due parametri, quindi i tempi di shutter e i valori ISO. Quindi in pratica che cosa sta succedendo? Noi per mettere a fuoco una porzione maggiore del nostro fotogramma stiamo perdendo luce e dobbiamo reintrodurla allungando i tempi e questo ci espone al rischio di avere le foto micromosse o anche in proprio mosse se abbiamo esagerato con i tempi e ci espone al rischio di avere una gamma dinamica più bassa e un po' di rumore nelle nostre immagini soprattutto nelle aree più scure. Ho già pubblicato diversi video in cui parlo del rumore e di come è possibile evitarlo e ho anche diversi video sulla messa a fuoco quindi vi invito ad andare a beccarvi i link da tutte le parti che saltano fuori nei video consigliati piuttosto che direttamente nelle playlist sul mio canale perché molte di queste cose le spiego già. Non vado ad addentrarmi in questi argomenti ora perché in gran parte ne ho già parlato e perché sennò questo video diventerebbe interminabile invece noi lo concludiamo qui perché se sei arrivato fino a questo punto ormai hai capito come si fa per mettere a fuoco oggetti che stanno su piani di messa a fuoco diversi. Invece di affidarsi ai punti di messa a fuoco bisogna fare affidamento sull'apertura sul diaframma del nostro obiettivo e andare a chiuderlo quel tanto che basta da permetterci di portare a casa una fotografia più pulita possibile più a fuoco possibile a fuoco nel senso di evitare micro mosso e handshake e cose del genere e dobbiamo però andare a beccare il diaframma giusto per estendere la profondità di campo in maniera tale da prendere tutti i soggetti che vogliamo fotografare. Ovviamente per fare correttamente questa cosa potrebbe essere necessario introdurre delle luci supplementari come per esempio un flash ma ne parleremo in episodi successivi che vi invito a iscrivervi al canale per non perdere. Vi ricordo anche che se mi lasciate un commento con una domanda una curiosità eccetera eccetera spesso e volentieri io rispondo con degli shorts verticali ai vostri commenti per cui di nuovo iscrivetevi se no poi vi andate a perdere le risposte. Amici è stato un piacere come sempre passare un po' del mio tempo con voi e io vi do appuntamento al prossimo video. Grazie.